Il saggio su una rivelezza di Ignazio Vori, poi ve lo leggerà, che non è presente qui con noi, e poi ve lo leggerà Lino Iacovella, che intanto chiamerai sul palco, che è uno dei curatori dell'antologia. Le letture dedicate a Dario Bellezza dovevano avvenire a cura di Vida Rivello, che anche essa purtroppo non è riuscita a raggiungere Bologna in tempo quest'oggi. Però Lidia ci ha mandato un piccolo testo introduttivo, perché in un certo mal modo ci teneva ad essere presente quest'oggi. Se per la leggia mi aiuta molto al senso... ecco, io ve lo leggo molto semplicemente Dario Bellezza non fa. Non è un iPhone quello, ma è diventato comunque un oggetto enigmatico ed evocativo. Siamo nel luglio del 1990 all'Aquila, nel vivissimo della festa della perdonanza, un omaggio all'Amazzonia e ai mondi da questa dimensione generati. Hanno invitato i poeti, come sempre a corso, l'anno dopo l'altro, caotici e stupiti, con la mentezza di ipermi fuochi dietro le quinte. Hanno invitato tanti poeti e da questi Vito Riviero, Corato Costa, Valentina Zaglia, Dario Bellezza. Dario mi è sempre piaciuto il giorno in cui lo vedi entrare in un ristorante per le cene post reading, mostrando un viso smarrito perché era rimasto vuoto solo il capotavola. Si guardò intorno e scelse di sedersi, facendosi il minimo accanto a me, la bambina dei sette anni. Col giorno di luglio 1990 bussono alla porta della mia stanza di albergo e quando apro mi trovo davanti Dario Bellezza che mi chiede, hai un phone? Te lo riporto, te lo prometto, subito non posso stare con i capelli bagnati a lungo. Pochi minuti e tornano Fon e Dario con il quale salto poi una staccionata da odio cuore, mangiare bene per sentirsi in forma e sotto lo sguardo del solo barista al banco della ON, io e Dario siamo già in strada ad attendere l'arrivo degli altri poeti. Poi una canzone dalla radio che il barista abbranzato a volumino a odi sfida, Eros Ramazzotti, amarti è l'immenso per me. Ci passa davanti un tazio e un gigiano e io e Dario lo guardiamo seguendolo fino alla sua scomparsa visionaria e materica nella complicità di due amici che guardano la natura come una festa di pochi minuti. Della sua ironica screanzata, garraffiata presenza sul palco ricordo ogni istante e mi piacevano in particolare quelli prima e dopo le letture, le aggiunte, le situazioni, gli equilibri infantili e le cadute noragiche. Con Simone Carella, amato amico e regista in battemina di quegli anni, abbiamo spesso pensato a quel corpo di poeta come la più grande delle imbarcazioni, un vascello naturale, una materia pallina. E' quello del poeta in un corpo sperimentale per eccellenza e per demenza, per assenza e per eccedenza. Quel corpo di Dario è da voi stasera non celebrato ma detto e liberato da stereotipi, classificazioni, indici di libri, omaggi e musei. E' il corpo che pure quando è pieno spettacolo e fuori scena sfugge perché vive. Lidia Di Biello